Kong, Skullisland Kong, Skullisland è un film avventura, azione del 2017 diretto da Jordan Vogt-Roberts, con Tommy Dleston, Samuel L. Jackson, John Godman, Chris Hummer, Brie Larson, Ying Tian, Thomas Mann, John Cirelli, John Ortiz. Trama Alcuni soldati che hanno combattuto nella guerra del Vietnam, ricevono una particolare missione, devono scurtare un gruppo di ricercatori su una misteriosa isola dispersa nell'Oceano Pacifico. La missione, apparentemente tranquilla e priva di pericoli, si rivelerà in realtà mortale. Sull'isola è infatti presente un'enorme scimmia, grande come una montagna, che in pochi attimi distruggerà tutti i mezzi di fuga della spedizione. I sopravvissuti all'attacco del gorilla, dovranno quindi riuscire a sopravvivere e scappare da un'isola piena di pericolose creature selvagge. Recensione Kong, Skullisland è un film d'avventura barra azione del 2017, un film che trae piena ispirazione dalla storia di King Kong. Pur interpretando appieno la trama originale, questo ennesimo film sul gorilla gigante più famoso del mondo, risulta essere l'ennesimo film clone che cerca di sfruttare una storia trita e ritrita. La storia è dunque banale e poco credibile, con effetti speciali carini, ma nulla di esageratamente eccezionale. Mi ha inoltre stupito vedere partecipare anche un attore del calibro di Samuel L. Jackson, in un film che probabilmente sarà un po' una macchia nella sua carriera. In buona sostanza, Kong, Skullisland è un film mediocre, di cui a mio avviso se ne poteva fare anche a meno, una pellicola che magari sarà gradita solo ai superfan della serie.